Benvenuti a questa nuova partita dei Gironi di Coppa da Piero Gipardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Occhio all'uno contro uno. Occhio al tiro. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Interrompono bene l'azione allentando la pressione sulla difesa. Deulofeu. Disturbato ma va avanti. fallo laterale per il Barcellona. Iniesta. Song. Attenzione. l'anticipo sul pallone. Neibar. Calcio d'angolo per Iniesta. fuori gioco e dunque si interrompe l'opportunità. sì, un'occasione sfumata. erano arrivati lì molto bene. esce e recupera il pallone. fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco stava andando, se ne verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi d'assistente. eh, ma era al di là, poco, era fuori gioco. Palla che esce, Tuch, rimessa laterale. Arbitro che qui potrebbe tirare fuori il cartellino. Ammonito il giocatore del Barça, questo giallo potrebbe condizionarlo Stefano? Questa è la mia sensazione, non può permettersi ora di prendere un altro cartellino. Buono il tackle. Buono il movimento, palla al piede. Palla lunga verso Neymar. Neymar. Sarà calcio d'angolo per il Barcellona. a metri, a disposizione. Prova a sorprenderlo. Si ripartirà con una rimessa laterale. Giaccherini. Busquets. Strappano il pallone agli avversari. Attenzione, si, calcio di rigore. Beh, ma qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse un cedere soltanto il rigore non era abbastanza. Niente da fare per il portiere. Rigore canciato con sicurezza. Palla che finisce in red. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. Hanno raddoppiato. Adesso sono avanti 2 a 0. Giordi Alba. Montoya. Quarto uovo indica 5 minuti di recupero. Deulofeu. Giordi Alba. C'è il fuorigioco secondo l'arbitro e gli assistenti. Viene amonito dunque per il precedente fallo, prima del vantaggio, no Stefano? Sì, sì. Non c'è dubbio. C'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo. L'arbitro è intervenuto. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Troppo irruente. Ha sbagliato il tempo della scivolata. finendo per falciare il proprio avversario. E dopo la fine della prima frazione, dunque, 2 a 0. Squadre che tornano negli sfogliatoi. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Busquets. Song. Prova ad attaccare Barcellona. Attenzione! Punizione da una mattonella molto interessante. C'è la battuta. Ottima scelta di tempo. Buona risposta del portiere. C'è la frateria per andare. Grande occasione. Ecco il tiro. E il portiere dice di no. Da lì doveva segnare. Pedro. Sicuro? Intervento del portiere che va in presa. Song. Iniesta. Montoya. Occhio all'uno contro uno. Trova il compagno. A spazio. Prova. Traversa. Incredibile occasione. E' ferma ma non controlla. Numero di Neymar. Attenzione al tiro. Pallone sul palo. Intervento pulito sulla palla. Montoya. Buona lettura difensiva sul cross. Si era liberato bene ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Si buono in movimento però il fuori gioco è giusto. Fallo laterale per il Barcellona. Mascherano. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Squadron ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. C'è spazio davanti a sé. Può andare via da solo. Era un'ottima occasione in contropiede. Interrompe l'azione pericolosa. Neymar. C'è la deviazione. Pallone che termina fuori. Song. Neymar. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Tagli interessanti lì al centro. Occhio al tiro. E c'è la parata. Cosa si è mangiato, Piero? Sarà a tiro dalla bandierina per il Barcellona. Messi. Colpa di testa sul fondo. Era un'ottima opportunità questa. Non l'ha saputa sfruttare. Neymar. A metri a disposizione. Attenzione, tutto solo. Trova a andare. Restringe il primo tiro. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore. Triplice rischio, così può bastare, dice l'arbitro. Questo, fammi dire Stefano, è proprio la bellezza del calcio. Oggi nessuno avrebbe scommesso su questo risultato alla vigilia. È vero, una vittoria meritatissima. Frutto dello spirito di sacrificio e della capacità di...